Partirà il 4 settembre negli Stati Uniti, il nuovo tour Raiando El Sol della rock band messicana Maná, uno dei gruppi più prolifici e di successo dell'America Latina, con oltre 40 milioni di dischi venduti nel mondo, fra le collaborazioni quella con Santana per Corazón e Spinado. Fino al 13 aprile la Tyburn Gallery di Londra ospita la personale Speaking Through Waltz di Seth M. Bilem Cezanne, fotografa, performer e visual artist sudafricana. Concepisce la sua arte come una forma di resistenza, in particolare contro l'eredità dell'ideologia colonialista. Il 17 maggio al Park Theater di Las Vegas si terrà la prima dello show Metamorphosis di Janet Jackson, che rimarrà in calendario fino ad agosto. L'artista, sorella del leggendario Michael, ha venduto oltre 160 milioni di dischi nel mondo.